Il mese di maggio Il mese di maggio La prima insalata che vediamo è la gentilina rossa Un'insalata croccante, una delle precoci, una delle migliori in assoluto Poi seguono le lattughe naturalmente a cappuccio Una buona operazione è dopo aver sarchiato dare anche una leggera concimazione Che in questi casi si utilizza lo stallatico pellettato Vedete una passatina di stallatico di questo genere fa sì che completa la formazione del ceppo E quindi a questo punto il ceppo viene bello nutriente e in poco tempo da consumare E qui siamo nella parcella dell'orto dei pomodori Voi vedete che tra una foglia e l'altra foglia sviluppa il grappolo dei fiori Quindi il grappolo dei fiori è importante perché è quello che maturerà i pomodori Però cosa succede? Che alla base della prima foglia nasce quasi sempre un altro germoglio Che fa concorrenza alla cima principale Per cui è la cima principale che noi dovremo lasciare crescere Perché è quella attraverso il suo sviluppo che genererà i grappoli di fiori E di conseguenza i grappoli dei frutti Quindi queste cosiddette femminelle che nascono Vanno eliminate, ovviamente forbicine appuntite, non forbici di grande dimensione E si tagliano, vedete? Così la forza, la sostanza nutritiva salirà e andrà direttamente ad ingrossare il fiore C'è un ultimo intervento da fare al pomodoro nel mese di maggio Ed è il trattamento con il rame Il rame è il classico verde rame che si utilizza nella vigna L'ossicloruro di rame è un prodotto che ha cent'anni di vita Ma che nonostante i suoi cent'anni rimane ancora il miglior fungicida in assoluto Vedete che la pianta si bagna immediatamente di blu Questo è fondamentale È un'operazione che va fatta rigorosamente ogni 10, massimo 15 giorni Questa patina blu astra, mi ripeto, serve ad indurire il fogliame Di conseguenza renderlo inattaccabile da quelle che sono le malattie classiche del pomodoro E questo era un po' il lavoro che si deve fare in un orto il mese di maggio Poi ovviamente ogni mese ha i suoi lavori predisposti per ottenere dei buoni risultati Noi probabilmente, anzi con certezza, ci vedremo il mese di giugno E parleremo dell'orto in giugno Vedremo tutte le cose che abbiamo praticato in questo periodo Assisteremo ai primi raccolti Magari le prime patate novelle Assisteremo ai primi pomodori Anche perché primi o fini di giugno ci ha già qualcosa da raccogliere nell'orto Le prime zucchine E comunque tutti i lavori che abbiamo svolto Toccheremo con mano il risultato Bene, ci vediamo a giugno